bene allora buonasera a tutti grazie di essere qui per festeggiare perché quando un libro esce il primo giorno è sempre una cosa da festeggiare oggi esce questo libro di Dario che molti di voi conoscono che ha una bellissima copertina fra l'altro cosa non da trascurare la bellezza della copertina anche perché quello che c'è dentro però la copertina allora inutile negare che sia Andrea che io siamo dei cari amici di Dario ci conosciamo da tanto tempo e quindi il nostro sguardo su questo libro è pieno di affetto per il libro per l'autore e quindi parziale ma in realtà a volte insomma questa parzialità è anche anche scomoda quindi cercheremo di farti delle domande più scomode possibile noi ti conosciamo ti abbiamo seguito ma negli ultimi anni e questo libro in realtà che è sentito invernale è parte di un di un progetto che ha avuto tempi diversi lontani e quindi io partirei partire da qui perché questa invece è una cosa che magari non tutti non tutti sanno cioè il fatto che questo libro fa parte di una quadrillogia non ancora compiuta ma che si compirà forse chissà quando ma si compirà partirei da lì buonasera grazie di essere qui fa molto piacere vedervi tutti lì e poi mi fa molto piacere avere questi due bei tomi ai lati e allora la domanda mi permette di fare un ragionamento che non ho mai fatto né in pubblico ma neanche più tanto in privato perché il primo il primo libro che si intitola invernale è del 2001 e poi mi sono autopubblicato autunnale perché non lo voleva nessuno e adesso c'è primaverile primaverile ho detto ho detto autunnale poi si è detto invernale primaverile autunnale adesso c'è invernale e dovrà esserci estivo in un futuro ma l'idea è che la prima è siccome sono appassionato di vivaldi volevo fare una cosa sulle quattro stagioni ma questa è quella vera però l'altra è che mi piaceva scrivere delle cose che in qualche maniera imitassero ma passero quello che è un po il l'anima di queste stagioni quindi non è che non è che sì le storie avvengano nella stagione del titolo o abbia a che fare con un naso di tempo di mesi che sono quelli invernali e che primaverile l'ho pensato come nel dna della primavera che quello di crescere di uscire dall'inverno di spaccare da parte dei vegetali il cemento e andare a fiorire anche con dolore e quindi mi sono inventato una cosa ascensionale così dove capitano queste cose autunnale al contrario mi è venuta in mente perché c'è una specie di spogliazione una spogliazione che che io faccio in qualche maniera patire al mio personaggio che si chiama eugenio ed è mappato su ionesco questo qua e questo qui è invernale non si non si svolge in una stagione perché prende qualche anno e la scena principale che poi è quella finale in realtà è d'estate però c'è un momento particolare di cui magari parleremo dove c'è un gelo e quindi questo è il motivo per cui questo è invernale il progetto è furbo è furbo perché nel momento in cui io facessi estivo e in qualche maniera l'editoria non mi avesse ancora rigettato io proporrò di farli tutti insieme quindi quindi cofanetto anche solo un volumino però insieme così vai bypass il problema della dei tre mesi che il libro sta in libreria capisce no ma questo è allora però però a questo punto devo confessare che mi sono tenuto per ultimo estivo perché sono tutti sgambi parte da primavera poi autunno poi inverno perché estivo che cosa l'estate dovrebbe essere la stagione della maturità e io finché non mi sento così non lo faccio ma ecco ma il fatto che siano così irregolari nella loro collocazione nel tempo dipende dal fatto che tu cominci a scrivere quel libro nel momento in cui senti diciamo un inverno una primavera un autunno interiore c'è una cosa legata al momento che stai vivendo della tua vita oppure no è un piano proprio già predeterminato ti chiedo questo perché ho letto in una tua intervista alla bbc mi sembra che dicevi che con il tuo fluent english esatto che che in realtà non sapevi poi estivo quando sarebbe stato il tempo per scrivere cioè quando ci saresti sentito pronto per la prova costume è quando sarò maturo è quello che non so lì forse avevo detto guarito alla bbc quando sarò guarito da quello che non so allora farò questo della maturità ma comunque la domanda è i primi due no erano erano progettati questo è venuto a taglio che sì che fosse invernale questo sì venuto in corso d'opera sì sì adesso finalmente buonasera no volevo dire questo ma dobbiamo parlare del libro o no cioè si può parlare del libro si può perché davide questo questo libro ha fatto la domanda più facile no allora secondo me qua in questo libro c'è un c'è un personaggio straordinario che è un padre il padre del del narratore poi c'è c'è un c'è un narratore che interviene in prima persona non molto specialmente all'inizio non c'è molto questo narratore poi interviene di più e questo padre è come dicevo mi sembra un personaggio quindi per come tu lo racconti poiché ci sia ci fosse una persona reale dietro quella l'hai conosciuta tu ma quella che fai conoscere a noi è questo personaggio che mi sembra raccontato appunto in modo straordinario e la cosa che la frase che mi ha fatto innamorare di questo personaggio è quando lui descrive quando Dario descrive Dario no quando il narratore descrive il lavoro di questo di questo padre che fa il macellaio lui dice stando al di qua del processo di scettura sta nell'atavico e questo mi ha colpito particolarmente perché dipinge un ritratto di una persona che in qualche modo pre non premoderna ma è pre 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 cioè proprio che vive che vive che e arriva dalla notte dei tempi e una persona almeno che questo è come il figlio la vede una persona che vive tra il crudo e il cotto vive nel crudo perché si occupa di ciò che nessuno di noi si vuole occupare cioè di tagliare le bestie e poi di avviarle verso invece un regno di 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 che quello della cucina della 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 felicità domestica di lo stare intorno a un tavolo del cucinare no di cucinare un pasto mentre mentre lui si 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 prende come dire sulle spalle il peso del del sangue no della 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 macellazione e quindi vado 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 bene o ti stai iniziando a stai iniziando a preoccuparti no volevo che ci parlassi di questo personaggio perché tu l'hai costruito comunque tutti i personaggi si costruiscono no tu l'hai costruito e e volevo sapere se l'hai costruito pensando proprio a questa perché è un po un un essere si direbbe liminale cioè è uno è un uomo che sta sulla soglia sempre no sta sulla soglia tra appunto tra il crudo ricotto tra la vita e la morte tra si occupa molto della della morte dei cadaveri tra ero segnato civiltà e e selvatico in qualche modo perché in più è anche un cacciatore tra sonno e veglia no è molto sempre lì sul sul margine e vai dimmi qualcosa di questa cosa se ti se ti fa venire in mente qualcosa questa questa immagine della soglia perché se io posso continuare perché nel momento in cui ho iniziato a pensare a questa cosa ho continuato a trovare nel libro delle delle immagini che stavano che disegnavano questa specie di spazio ma intanto grazie perché alla lettura di andrea sembra sempre di aver fatto delle cose molto intelligenti o comunque o comunque diciamo calibrate mentre sì è vero cioè adesso che mi ci fai pensare è proprio effettivamente è un è un personaggio non come mio padre parlandone come personaggio e col distacco del della carta stampata è un personaggio soglia perché anche un personaggio che traghetta lui stesso ti traghetta tra dalla vita alla morte di persona no sul crudo il cotto sono contento che tu abbia visto questo e capisco anche perché no forse non è premoderno altre cose è pre storico non pre storico ma è pre storico è come è come è come se prima c'è anche lì è una soglia c'è una tecnologia c'è perché la lama è una tecnologia che gli altri animali non hanno il fuoco però forse non ancora quindi quindi siamo lì non so non so collocarlo neanche io e questo è interessante bisognerebbe capire magari poi è nato prima il fuoco della lama sennò come facevano a fare a fare i coltelli comunque c'era la selce c'era la selce e questo è vero nel senso che io quando l'ho scritto però ho semplicemente cercato di dare voce a quello che era da un l'altro un'immagine perché io mi ricordavo benissimo la scena in cui avvenivano queste cose e anche un pensiero ovviamente e in particolare non tanto un ragionamento quanto una piccola scenetta che io a cui io avevo assistito dove però probabilmente nella 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 pratica della scrittura si condensano così quasi all'insaputa della della consapevolezza tutte queste cose che dici tu e cioè a un certo punto una cliente eccepiva sulla freschezza di di una costoletta di di capretto faceva chiedeva ma era veramente fresco non sarà mica decongelato non era il il pezzo migliore che aveva avuto da mesi no allora lui così imbuffalito lo prende e lo mangia davanti a lei proprio così lo e lo mangia crudo no e lei ovviamente si è sterrafa e questa scena per la dinamica teatrale della stessa sapevo che l'avrei messa però non pensavo che avrebbe potuto essere sarebbe potuta essere il tramite fra quello che dici tu tra il crudo e il cotto tra l'altro un'altra persona io sono un uomo fortunato perché conosco persone notevolissime notevolissime e la quarta di copertina l'ha fatto il nostro amico e collega che tiziano scarpa che dice proprio questo dice che è il tramite fra la la carne in quanto carne la carne come cibo la carne come cibo è una cosa che dire che non è data subito ormai per noi deve essere trattata eccetera eccetera quindi questa cosa questa cosa della soglia che tra l'altro poi se adesso non so quanti altri appunti ti sei preso ma siccome c'è anche c'è anche c'è anche molto c'è anche molto calcio calcio nel senso dello sport dentro no sì sì lì c'è una soglia ci sono varie soglie la prima ovviamente è la linea di porta che di qua non è niente e di là è uno a zero ma poi anche una cosa tipo mi ricordo questo insegnamento che lui mi diede proprio il padre il personaggio sulla distinzione concettuale fra classe la classe la classe nel senso di una persona di classe e lo stile c'è una persona dotata di un certo stile lui parlando di calciatori mi aveva fatto notare che ci sono queste due calciatori normali poi ci sono quelli che hanno uno stile quelli che hanno una classe e poi ci sono quelli che hanno entrambi e lì la cosa si condensa nel libro ma non solo nel libro in Riva e Van Basten sono dei momenti in cui c'è un insegnamento che come esempio prende il calcio ma potrebbe essere qualunque altra cosa per lui era quello per altri potrebbe essere qualcos'altro il concetto di soglia ti ringrazio per averlo porto così lo sfrutterò lo sfrutteremo perché mi continuerai a presentare grazie dunque il libro si conclude nell'82 quindi questo è un libro che è vero che attraverso alcuni anni però è anche un libro su quegli anni che sono sullo sfondo eppure come tutte le cose che tu scrivi sono anche molto percepite anche le cose che sono proprio dietro più lontane un po' offuscate dalla distanza però in realtà si percepiscono molto vivide soprattutto per chi in quegli anni più o meno li ha vissuti quindi sono passati 40 anni dal momento culminante del libro che sembra scritto in realtà tutto per raccontare quelle ultime ore, quegli ultimi minuti, quel momento su cui poi magari torneremo allora la domanda che mi sono fatto quando l'ho chiesta è sui tempi di maturazione cioè se questa è una storia che evidentemente per 40 anni è stata dentro di te nel frattempo ne hai scritte tante altre di vario tipo, di vario registro e quindi se è stata 40 anni lì intanto è una storia preziosissima perché se resisti dentro uno scrittore per 40 anni vuol dire che quella storia allora la domanda che ti faccio è un po' personale quindi vedi tu quanto sai rispondere ma perché adesso era il momento per scriverla? Perché prima no? E se la domanda è questa qui non credo di avere una risposta razionale cioè anch'io me lo sono chiesto e ci sto riflettendo la storia in sé io potevo raccontarla dal mese dopo perché quella è e avrei potuto raccontarla in qualunque momento per tutti i 40 anni ma non solo non l'ho mai fatto, non ci ho neanche mai pensato a farne un argomento di scrittura non era quello, non mi veniva, non mi veniva di pensare a questa storia come una cosa raccontabile non che ci pensassi e non riuscissi a farla, proprio non era nei progetti dopodiché due anni fa perché io l'ho scritto due anni fa è uscito adesso ma è uscito due anni fa che sono esattamente i 40 anni di distanza dai fatti io stavo pensando a scrivere altre cose altre cose, questa è una cosa che mi capita abbastanza spesso che ho in mente un progetto, poi mi vengono in mente altri che mi danno fastidio erano quelli veri, erano quelli lì, io ho in mente altre cose da scrivere non sapevo se A, B, C, pencolavo nella nebbia della finta creatività e a un certo punto mi è venuto in mente che c'era questa data che è la data di nascita di mio padre che è il 2 giugno e mi sono detto qualche settimana prima dico ma senti un po', ma forse qualcosa qualcosa ti puoi fare, puoi mettere finalmente così affrontare questo ganglio, questo plesso che per la mia vita ovviamente è umbilicale ma non lo è stato mai per la mia scrittura per la mia scrittura sono state più determinate certe scene, certe cose che molto più, molto meno dentro di me però è come se mi fossi sentito un magnete su questa data dell'inizio del suo compleanno e allora mi sono detto senti facciamo così lo comincio quel giorno lì e lo finisco l'anniversario della morte che è il 24 luglio per cui l'ho scritto in poche settimane l'ho scritto in poche settimane e non c'è stato altro pensiero di scrittura in quel frattempo quindi da un lato mi verrebbe da dire come si fa e io penso che non sia vero che la storia si è presentata a lei e quindi ha chiesto di essere raccontata però un pochino sì però siccome la storia è sempre stata quella da 40 anni io mi chiedo come mai non è questione di numeri che 40 è una cifra tonda se no per cifra tonda per cifra tonda aspettavo 50 anni sperando di esserci deve essere una questione stilistica cioè una questione di maturazione mia di cambiamento mio come scrittore perché ragionando su questo poi concludo perché se no divento noiosissimo mi sono reso conto che da un libro che ho scritto in poi qualcosa è cambiato nel mio rapporto con la scrittura il libro è Pacific Palisades che ho fatto con i Naudi dove compare già la figura la figura di mio padre proprio all'inizio non ci pensavo neanche più e poi compare anche dentro compare un padre che che non aveva ancora avuto figli per cui è un padre che mi è stato raccontato era mio padre da ragazzo però io devo dire che ho cambiato un po' atteggiamento nei confronti della scrittura cioè da quel libro in poi io mi irrito meno a scrivere non so cosa è capitato in che senso perché prima ti irritavi? sì ero profondamente irritato cioè avrei preso la pagina se non fosse stato un video avevo un senso di irritazione che si placava quando avevo finito ora quel senso di irritazione in qualche maniera non c'è più può darsi che sia una banale semplice come si può dire crescita emotiva e fisica dello scrittore però effettivamente c'è questa compresenza da quel libro lì a questo mi sembra di poter raccontare con meno isteria certe cose forse questo ha aperto la possibilità di parlare di questa che è una cosa per me emotivamente importante condivido lo stupore di Davide che ti ho letto negli occhi perché sull'irritazione perché tutto potremmo pensare ma che tu ti non so che non ti vengano le parole o che non ti che ti incazzi quando quando scrivi perché dai un'idea di tale naturalezza e di tale facilità e anche paradossalmente in questo libro che è tragico di felicità di scrittura che si fa fatica a pensare cioè si vede qua che forse che è successo qualcosa che c'è stato un cambiamento l'irritazione mi veniva quando mi veniva la parola non perché non mi venisse dico ma ok ah qua perché non era mai non era mai quella giusta ma sì oppure era quella giusta tra l'altro uno che è Raul Montanari mi ha proprio sgamato mi ha detto te sembri uno che lì passa sulla pagina chissà quante ore animale ma secondo me tu fai buona la prima poi ti disinteressi ed è così ed è così perché io mi dito Sandro stufi mi stufo Sandro ha preso delle parti di questo Passivic Palisese ne ha fatto uno spettacolo suo ma anche mio bellissimo che dura questi 55 minuti di orologio perfetto e quando prelevava i pezzi di testo da Passivic Palisese io vedevo all'opera una mente dotata di caratteristiche che non sono le mie cioè lui è veramente un narratore pazzesco perché dice questo pezzo qui lo mettiamo qua e io non posso cambiare neanche un aggettivo perché penso che cada tutto perché io penso che sto facendo una specie di costruzione con i fiammiferi che poi ha detto agli uno e ha detto tranquillo prendevo partito qua devi dire questo perché se no non funziona io mi ha chiuso in camera dell'altra stanza io ho fatto perché di fronte a uno molto più grande si fanno queste cose io non ho quella capacità lì quindi io non posso mettermi lì insomma che proprio tu non ce l'abbia no no la capacità di fare un testo e poi dopo di metterlo meglio perché tutte le volte che lo cambio a me sembra peggio quindi mi irrito irritavo vabbè siamo mediamente sospettosi di queste tue spiegazioni non ci convincono completamente lo faccio no andiamo avanti dunque stavo dicendo dicevo di questo personaggio appunto straordinario che è questo padre a un certo punto il padre produce anche lui un libro e il libro è l'insieme di tutti il grosso fascicolo di tutti i suoi esami tu non lo descrivi nei dettagli però c'è questo libro e il libro si chiama il libro dell'enigma allora tu pensi di poter chiamare all'interno di un libro con Canobbio che non ti fa una domanda sull'enigma no ok sapendo che saresti stato tu a presentarlo l'ho messo a posta quando hai scritto certo hai detto questo lo scrivo perché così Canobbio cade nella trappola allora questo libro dell'enigma è molto interessante no perché la tentazione è forte di interpretare tutta la storia come una come una detective story come una storia in cui un figlio cerca di capire cerca di cerca le le prove no cerca di fa un'indagine un'indagine sul padre e lo cerca di capirlo attraverso la sua non solo attraverso la sua malattia attraverso quello che faceva eccetera solo che qui in effetti poi rispetto a una detective story non è importante il colpevole la vittima ma l'enigma appunto è chi prova a risolverlo l'enigma dato che è proprio difficile da risolvere anzi non c'è soluzione secondo me porta per esempio nel narratore ed è uno dei primi momenti in cui lo vediamo emergere il narratore porta rabbia molta rabbia allora io volevo che tu cercassi di leggere questo libro con la chiave appunto dell'enigma se è una cosa che ti interessa o se è una cosa è una parola che hai scritto così a caso che ti è venuta così a caso e non ci avevi pensato non lo so sono scritto a caso ma qui mi sarebbe aprire un capitolo sul caso che lasciamo perdere parla dell'enigma allora il libro dell'enigma è il faldone dove convergono poco a poco tutte le referazioni però scusami però questo padre perché questo forse non l'ho detto questo padre è un personaggio enigmatico è un personaggio enigmatico lo ammetti questo è un personaggio per esempio è un personaggio molto silenzioso è un personaggio che non spiega raramente spiega e raramente fa vedere i propri mostri i propri sentimenti hai ragione sì va come dire immaginato pensato un po' spacchettato dedotto perché poi la sua vita non è che fosse lei enigmatica anzi era semplicissima quindi nei fatti delle cose però sì lui non dava un'interpretazione di sé quindi sta a carico tutto degli altri sì vabbè certo appariva molto simpatico nel lavoro era una persona che non è che si nascondesse però è come se avesse un nucleo che era in qualche maniera misterioso ma potrebbe anche darsi che lo fosse per lui stesso quindi non lo so e forse questo come dire stinge un po' su questo libro dell'enigma che in realtà è il tentativo da parte della medicina di capire che cosa capita di capire che cosa capita perché la storia poi è molto semplice c'è un primo incidente ci sono dei valori che vanno che vanno un po' strani poi sta meglio poi comincia a stare peggio ma non si sa che cos'ha fino a una diagnosi non si sa che cos'ha e quindi non solo non si sa che cos'ha non si sa neanche chi è l'esperto che possa dirlo perché il medico generale non lo sa lo specialista di A non lo sa lo specialista di B non capisce insomma quindi alla fine si fa questo 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 volume dove c'è però racchiuso tutto quello che si può sapere poi vabbè c'è una diagnosi c'è una brutta prognosi e c'è quello che deve esserci poi no non c'è non ci sono dei colpi di scena di quel tipo lì la situazione va come come ad andare rimane il libro dell'enigma perché è un libro e c'è una cosa leggibile uno dice ma che cosa che cosa capita però non si raggiunge mai il punto e allora adesso tu mi fai venire in mente perché sei tu e perché mi hai detto una cosa che ci sono anche altri libri dell'enigma per esempio un più banale quando gli arriva la diagnosi va a vedere su un'enciclopedia che cosa a che cosa corrisponde e ovviamente corrisponde a una cosa terrificante e allora però lì comincia a esserci l'ermeneutica io cerco di dirgli ma questa enciclopedia è di dieci anni fa figurati nel tempo la scienza medica ci vuoi raccontare quella scena lì perché è una scena che è fatta di due parti e tra l'altro in mezzo tra le due parti c'è un corridoio che è uno spazio liminale te lo volevo dire così perché la prima parte della scena si svolge in camera tua dove tu stai leggendo un altro libro e la seconda è quella sì questo 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 limite è nelle case degli anni 60 70 è molto ampio però c'è comunque entrando a sinistra camera loro a destra camera mia cosa capita nella cameretta mia capita che un giorno leggo tre uomini in barca di Jerome Clapka Jerome e mi rendo conto che a un certo punto sto ridendo da solo e penso di essere non a posto perché perché di solito non si ride da soli però io veramente non potrò fare diversamente che piegarmi in due e questo è il il la stanza la stanza mia perché ridevo perché in particolare c'è una scena bellissima di di Truman in barca dove il personaggio non mi ricordo più come si chiama va a vedere un'enciclopedia medica consulta un'enciclopedia medica e dopo averla consultata ha i sintomi di tutto quello che c'è che c'è tranne il ginocchio della lavandaia e questo è dopo l'altra stanza invece è tragica nel senso che c'è lui che va a vedere sull'enciclopedia che nel frattempo mi era stata costruita negli anni che era universo per cui nella nostra età c'era universo e l'altra che non mi ricordo com'era conoscere io ero di quelli di universo e lì leggeva delle cose che poi io sono andato a vedere cosa si diceva ed erano assolutamente spietate e mi è venuto in mente di dirgli ma però tu stai guardando una cosa che è datata e poi c'è una piccola considerazione sul fatto che quando uno ha una qualunque bua non deve andare su google perché gli viene poi la questione di Jerome e quindi però sono due istanze diverse c'è una separazione effettivamente c'è diciamo se vuoi tragedia e umorismo per esempio quasi quasi convinti quasi convinti è un po' sfuggente non è difficile ma ti dico quando io ho letto il libro e sapevo già insomma Dario mi aveva chiesto di chiacchierarne con lui qui e io ho letto altri libri di Dario tutti i libri di Dario e mi è capitato anche di parlarne insomma in pubblico e non ho mai avuto nessun problema a trovare degli argomenti per parlare dei tuoi libri c'è sempre tanta roba insomma di cui chiacchierare con te e invece questo è un libro che mi ha lasciato piuttosto muto e infatti quello che ti ho detto ti ho detto questo libro rispetta tutti gli altri a questa cosa che una volta che l'hai letto non è che c'è molto di cui parlare nel senso che dentro questo libro c'è tutto quello che serve al libro stesso e questo è il motivo per cui quando ho pensato di venire qui a chiaccharne con te ho detto parlerò di alcune piccole cose tecniche che tu che tu fai perché Dario è stato anche è ancora insomma è stato è ancora un mio maestro anche di scrittura ha lavorato alla Holden molti di noi insomma ci lavorano chi non ci lavora comunque scrive quindi quando leggi il libro di qualcuno che ti ha insegnato delle cose sulla scrittura vai sempre a vedere anche ora non so se avete se ricordate qualcuno di voi magari ricorda Larry Bird il giocatore di pallacanesso che negli anni 80 giocava nel Celtics e insieme a Magic Johnson erano i grandi rivali rappresentavano due mondi molto diversi il Magic Johnson che era questo omone nero simpaticissimo sempre sorridente che giocava a Los Angeles dove erano la squadra era quasi tutta fatta di ragazze di colore e rappresentava proprio un po' il basket champagne di quella costa sempre soleggiata e invece poi c'era la squadra di Boston con Larry Bird che era una squadra dove c'erano soltanto due di colore in quintetto e all'epoca era già una rarità e rappresentava invece un po' la classe operaia la città industriale invece un po' grigia un po' piovosa dell'est e Larry Bird è stato uno dei più grandi giocatori diciamo senza fisico cioè era uno che era alto due metri e passa però rispetto ai marcantoni che c'erano dall'altra parte l'atletismo di certi giocatori sembrava un po' l'impiegato delle poste un po' curvo che ti trovi dietro lo sportello che dici ah se avesse fatto sport sarebbe stato bene per lui e lui in particolare era un tiratore da tre punti faceva tutto bene però era un tiratore da tre punti era un tiratore in generale cioè la buttava dentro in qualunque posizione per dirvi il tipo era uno che sapete nell'NBA fanno lo star game i migliori giocatori si trovano a giocare e fanno la gara del tiro da tre punti che ancora oggi si fa e quindi i migliori giocatori i migliori tiratori della Lega si trovano lì e fanno questa gara dove tirano solo da tre punti e all'epoca lui andò a questa gara ne ha vinte parecchi andò a questa gara entrò nello spogliatoio dove c'erano tutti questi giocatori di altre squadre e disse allora chi è che arriva secondo oggi per dirvi il tipo ecco lui è stato uno dei più grandi giocatori e quindi ti verrebbe da dire ok studiamo il modo in cui lui tirava cioè proprio la tecnica di tiro perché di solito i grandi tiratori sono anche quelli che come dire ottimizzano perfezionano tutti i movimenti che dovresti fare quando tiri ecco lui era l'esatto contrario cioè lui faceva una cosa cioè metteva la palla sulla spalla e tirava così come se scagliasse una roba un po' a metà tra il lancio del peso che è una cosa che ti dicono subito quando sei ragazzino e non arrivi a tirare la canestro perché il canestro è lontano la palla è pesante fai questo movimento e ti dicono subito no 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 devi mettere la palla davanti alla fronte piegare le gambe spingere con le gambe perché? perché se spingi con la spalla la palla tende a prendere una diagonale in più devi cercare di lasciare la palla quando la palla è più in alto possibile nessuno può stopparti il tiro se tu la fai partire dall'altezza della testa anche uno più piccolo mette la mano e ti blocca lui tirava così un po' come Sylvester altri giocatori che hanno giocato anche in Italia tirava in una maniera tutta sbagliata apparentemente tutta sbagliata ma estremamente efficace ecco Dario è il mio Larry Bird quando insegno cioè quando insegno e io cerco di insegnare perché sono come dire un ortodosso le cose che ho imparato che cerco di fare artigianalmente al meglio e quindi insegno per esempio quando suvisci una storia beh sai fare una scaletta Dario non la fa oppure scrivi la prima stesura e poi ti metti lì la rivedi rimetti a posto fai il lavoro di cui parlavamo prima quella cosa ti accorgi che funziona meglio messa alla quarta pagina allora sposti Dario non lo fa e quindi quando trovo qualche studente come dire talentuoso ma che fa fatica a stare dentro che ha un suo modo di tirare che però poi la palla la butta dentro allora io gli dico sempre ma tu l'hai letto Voltolini dovresti letto perché Voltolini è proprio una categoria di giocatori ok che fanno delle cose che non si possono insegnare e quando lui dice perché io ci ho provato quando ha scritto Il giardino degli aranci me l'ha mandato prima di pubblicarlo e io l'ho letto e ho applicato il mio metodo cioè guarda come mette i piedi guarda come dove mette la palla come muove il gomito se sta dritto guardo tutta questa roba qua e un po' lo conosco già e gli ho detto ma secondo me quelle cioè proprio mi sono permesso sapendo già che era inutile ma così per darmi un senso ho detto ma secondo me quelle tre pagine alla fine se diventassero due no così e gli mando un whatsapp silenzio non risponde come tu lo fai allora ho detto se l'è presa magari allora lo scrivo ma non che non funzioni così così funziona bene infatti poi sono come le leggete erano e funzionano funzionano bene però secondo me se prendessi in considerazione questa cosa riflettici e lui dopo qualche giorno mi scrive e mi dice non ce la posso fare ok non ce la posso fare perché evidentemente ci aveva pensato però io ho capito cioè ecco se uno non conoscesse Dario leggendo solo quei messaggi potrebbe prendere come una questione di di presunzione ma chi conosce Dario sa che è proprio immune a questo vizio no è che mentre la maggior parte di noi che scrive costruisce roba che si smonta ok cioè che tu puoi smontare in vari pezzi e poi rimontare un po' la roba Ikea ok come l'Ikea quando tu capisci come funziona l'Ikea è un po' come capisci quando capisci come funziona Windows come funziona un Mac quando capisci il sistema e poi dopo qualunque cosa Ikea si ci metterai un po' di più un po' di meno leggi le istruzioni lo monti ok ma perché quell'oggetto lì è già stato ideato e costruito per essere smontato e montato ok mentre invece mi sono accorto che Dario fa degli oggetti in un pezzo solo cioè non sono smontabili non sono separabili è un po' come come Ulisse che aveva il letto nell'ulivo ok e quindi quando tu gli dici le ultime tre pagine per me le ultime tre pagine sono una roba che tagli togli le ultime tre pagine le rimetti a posto secondo un tuo criterio e poi le riappiccichi ci rimetti la brugola e riattacchi le ultime tre pagine fine ok mentre invece quando tu gli dici le ultime tre pagine e le ultime tre pagine per lui sono come dire è come se fosse un corpo che è tutto un cuore ok che non puoi staccare sistemare modificare e rimettere dentro cioè lui in questo il suo artigianato è completamente diverso da quello della maggior parte delle persone che scrivono che ragionano così con un criterio molto industriale anche se vogliamo si è rotta la valvola la tolgo metto un'altra valvola fine più o meno simile che se volete quella funziona no in lui i libri suoi e questo in particolare sono tutti un corpo vivente collegato e quindi io capisco quando lui dice l'ho scritto e poi non riesco più a metterci mano e capisco anche la sofferenza di quando gli dicono aggiungi quella roba lì sposta quella roba lì cioè sono degli organismi estremamente fragili no eppure estremamente compatti nella loro forza e infatti lui fa degli oggetti che sono quasi sempre piccoli e quando li vedi gli dici beh certo non è tante pagine ma poi hanno una densità pazzesca ok eppure sono leggeri cioè anche questo libro che avrete capito l'argomento è tosto non è un libro alla fine del quale tu arrivi come dire affaticato non c'è niente di faticoso nel modo in cui lui costruisce queste cose ma perché non ci sono gli snodi cioè non ci sono le giunture non ci sono le brugole proprio ricavati da un unico pezzo allora quando lui dice i libri mi vengono così cioè in quel momento sento che con la storia e questo secondo me è molto legato al fatto che quando io devo costruire un libro come molti di noi vado in falegnameria e dico mi servono 16 assi 40 raccordi e poi porto a casa e poi monto mentre invece lui deve trovare il tronco il pezzo di legno giusto per fare quella cosa lì che è proprio un approccio mentale completamente diverso cioè c'è l'idea che tu devi stare lì in riva al mare o girare nei boschi fino a quando non ti arriva quel pezzo lì e quando vedi il pezzo capisci il libro che puoi scrivere non il contrario io penso al libro che voglio scrivere e poi vado a cercarmi i pezzi per comporlo invece lui sta lì e questo spiega anche perché è sempre lì che cammina in giro per Torino tu sei a casa che lavori nello studio vai in giro vai a che ne so all'asle di Torino Nord cammini cioè sei lì in macchina in coda giri la testa c'è Voltolini che cammina lui non sta perdendo tempo lui sta cercando il suo pezzo di legno da lavorare e io fai l'applauso ma naturalmente è descritto così certo è così è esattamente esattamente così no parlando seriamente qua abbiamo due tre scrittori che io più amo e ammiro e apprezzo della nostra scena entrambi sono due costruttori sono radicalmente diversi l'uno dall'altro ma sono due costruttori tu e lui e io vedo la vostra differenza vedo la mia differenza da voi sono affascinato da tutte le nostre differenze perché la mia la mia mente malata è quella che noi si sta facendo un lavoro di squadra inutile mettere undici in Maradona perdi perché quello importa è altro così no quindi ognuno ha le sue alle sue alle sue caratteristiche però capisco che grazie a vedervi diversi ma simili sull'asse della della costruzione io non mi sento così e allora mi chiedo ma cosa ho provato a fare delle cose costruendole no ma paradossalmente al contrario invece di fare uno scheletro ho fatto un carapace io quando ho scritto forme d'onda mi sono fatto tutta una struttura che era però dove mettere i racconti che poi dopo liberamente facevo quindi il primo racconto doveva corrispondere all'ultimo ma non se ne può accorgere nessuno non me lo ricordo più neanche io però era una struttura esterna no e quando tu dici questo del pezzo di legno mi hai fatto balenare in mente questa cosa qui che il mio libro il libro che ho amato di più è Pinocchio e Geppetto trova un pezzo di legno che dice guarda questo qua questo mi può far fare un burattino no non è che faceva il falegname ne avrà visti no e poi trova quello giusto e probabilmente è così cioè io a un certo punto cerco una cosa che in qualche maniera mi sostenga nell'idea di scriverla e poi e poi mi metto a scrivere un po' come se facessi l'improvvisazione jazz no ha le regole l'improvvisazione jazz però è un'improvvisazione e soprattutto però gli altri strumentisti i ritmi ce li hanno cioè non è che vai a fare una cosa che non torna più indietro però sì nel momento in cui sono sulla pagina io è come se bruciassi una roba che è molto sottile e poi quando mi guardo indietro non c'è più c'è quello che ho scritto e dico a parte il caso di quando Sandro ne ha fatto una cosa diversa e sua e io strabigliavo perché stava in piedi più la sua che la mia ma la sua stava in piedi in un ambito teatrale la mia no quindi c'era una differenza anche di arte io sì mi rendo conto che è così infatti io sono più portato per il racconto dove probabilmente è così anche per chi anche scrive racconti e che tendo a pensare il romanzo la cosa dilattata come un racconto più lungo non è che penso non è che penso a quella struttura in quella maniera lì quando quando Andrea mi parlava o adesso adesso siamo anche in argomento cioè il libro più più bello che io ho letto e che probabilmente è stato scritto su questa questione di figli padre malattie eccetera è il suo è il suo la traversata notturna che è uscito due anni fa ma io faccio il rimbalzo lui mi fa legname è il suo dove io vedo conoscendolo quanta quanta capacità costruttiva lui ha messo e ha fatto in maniera che non si vedesse però io lo so e vedo estrabiglio ho fatto per un anno o due mi pare lezione con te in classe perché avevamo fatto talmente gli sboroni da fare due professori per classe quell'anno alla Holden e io lo vedevo e cercavo di apprendere da lui perché anche quando gesticola lui sta scrivendo quando dice adesso ho fatto questo e ho bisogno di mettergli sopra questo è un mobile ma non è un mobile Ikea è un mobile come quello di Piffetti il più bel mobile che c'è alla fondazione a corsi o metto quello di tutto interziato però tu hai questo modo di mettere insieme le cose affinché stiano infatti sapendo che io vado in giro a fare la lingera che però fintamente lavora sapendo che io ero in Liguria un giorno mi hai telefonato dicendo ma tu sei per caso dalle parti di Spotorno ti ricordi stavi scrivendo l'uomo verticale e io dico sì sono dalle parti di Spotorno puoi mica vedere se della strada che passa dietro Spotorno a quella altezza lì si vede l'isola di Bergeggi e io sono andato e ho detto si vede l'isola di Bergeggi tutta la sua truppa converge all'isola di Bergeggi questo romanzo distopico bellissimo sono tutti modi diversi di fare io mi riconosco mi riconosco molto in questa in questa modalità un po' piezoelettrica che quando ho trovato l'oggetto devo in qualche maniera liberarmene e poi sì essendo fatto così è difficile per me spaccarlo e rimetterlo insieme non so sono forse due modalità diverse di fare poi la stessa cosa non lo so ditemi voi che siete e se fosse invece che e se fosse invece che questa è una così un'immagine che noi poveri costruttori ci vogliamo tenere vicino al cuore l'immagine del Voltolini come lo scrittore esiste quindi esiste uno scrittore che può non penare come noi a costruire e se ti stessimo forse idealizzando e invece tu fossi semplicemente molto bravo e e cioè voglio dire magari riesci a fare delle cose che noi dobbiamo fare con pena e fatica e ragionandoci sopra e guardando l'isola di l'isola se si vede o non si vede mentre invece a te viene naturale viene naturale ma non è che non ci sia la costruzione per esempio questo libro qua c'è una costruzione fenomenale è una costruzione in tre parti è una costruzione del personaggio la costruzione di appunto di quest'uomo che 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 passa dal ruolo di di macellatore appunto di cosa a quello di uomo enigma che che si perde c'è una c'è una parte centrale bellissima in cui il padre non sa che cosa gli sta succedendo diventa enigma per se stesso e quindi e poi c'è una parte della della tragica consapevolezza ma che comunque anche lì è piena di mistero perché non non si capisce è un male terribilmente misterioso no quindi io vabbè io sono io e sono malato però io la costruzione ce la vedo e mi chiedo appunto mi dico magari è una cosa che pensiamo noi poveri tapini che esiste esiste uno che può fare a meno a cui viene naturale così come respirare come passeggiare come guarda me l'ero segnata questa domanda esattamente proprio in questi termini dato che sembra tutto così naturale raccontaci come l'hai scritto perché effettivamente viene spontaneo chiederselo no però non è che la costruzione non ci sia la costruzione c'è io non so quanto tempo abbiamo spero che abbiamo finito perché no perché io avevo la domanda per metterlo in crisi però non so se invece finora era non c'è la domanda per metterlo in crisi no rispondo rapidamente a questo cioè a te è curioso che tu pensi esiste uno scrittore che fa così e forse lo idealizzo mentre invece è semplicemente bravo e quando dice semplicemente bravo che mi idealizzi perché perché non è non è così è è che io la costruzione lo so che c'è però io non ho pensato non posso dire di aver pensato mai faccio una cosa in tre parti però magari ho introiettato la forma suonata l'hai pensato da bambino l'hai pensato da bambino sì sì magari ho introiettato la forma suonata da balbettante e poi mi viene così oppure oppure siccome quella è una forma diciamo quasi antropologica no quella della adesso che ci fai pensare è proprio la forma suonata questa eh e ma sì sfrutta ma io credo che sia arrivato uno che dice adesso faccio la forma suonata non lo so non so come è andata bisogna chiedere bisogna sempre chiedere la forma suonata se dobbiamo sapere qualcosa di vero se dobbiamo continuare ad andare così a raso insomma sì sì io ma certo che c'è una costruzione almeno a posteriori la si vede ecco insomma no deve poi c'è una scena bellissima verso la fine in cui che io avrei voluto che ci fossero i telefonini all'epoca hai capito a cosa mi riferisco in cui Dario su una spiaggia fa una rovesciata come le faceva Gigi Riva giusto? sì di destra e c'è questa battuta geniale del tuo amico che era con te che dice ma tu sai fare certe cose questo è quello che i poveri costruttori come noi però la risposta dicono però la risposta la risposta qual è? no l'ho fatta ma non lo so farlo questa è molto bella l'ho fatta ma non lo so fare è molto bella è abbastanza tuo però sì sì non so ripeterla per esempio vi voglio posso leggere una paginetta per insomma farvi sentire cosa fa Dario con le parole allora c'è una scena in casa ci sono il padre e il figlio e il padre è arrivato a casa con diciamo l'incasso della giornata a una macelleria a Portapalazzo spiegare al figlio che quello non era il guadagno bensì l'incasso che differenza c'è? c'è che dall'incasso devi sottrarre le spese per avere il guadagno quali spese? per esempio vendo un coniglio mi pagano il coniglio dieci ma io l'ho pagato per averlo sette quindi tu ora vedi qui sul tavolo dieci ma sette devo darli a chi ha venduto il coniglio a me quindi il mio guadagno è tre a mettici poi che il coniglio che ho comprato era intero e quello che ho venduto era a pezzi e il lavoro per farlo a pezzi sta nei tre a e il lavoro di tenere pulito il negozio di pagare il garzone di pagare la luce e il telefono sta sempre nei tre ma di tutti i conigli insieme le pecore i polli ah beh vedete qui siamo proprio come se fossimo al tavolo con loro lui con i soldi il figlio davanti lui che gli spiega come stanno le cose però vedere quei grandi mazzi di banconote era comunque bello e molto tempo prima nella pausa tra la fine della giornata di lavoro e la cena mettere su Spidi Gonzales versione Peppino di Capri e fare un po' di ginnastica twisty gain con il figlio che era piccolo nella stanzetta sua e molti anni prima lavorare e andare agli allenamenti lavorare e andare agli allenamenti lavorare fino a sfidirsi e poi andare agli allenamenti a sfiancarsi ma godendo di ogni contatto tra il cuoio dello scarpino e quello del pallone e tra questo e il cuoio della testa che a volte rimaneva ferito per aver incornato la sfera proprio nel punto dove ne fuoriusciva il valvolone per il gonfiaccio e pochi anni dopo sposarsi e prima ancora scavalcare i cancelli per andare a vedere la partita allo stadio prendersi una bastonata dal poliziotto e ancora prima tuffarsi con i fratelli e gli amici nella cascatella vicino a casa vicino alla fabbrica e precedentemente non esserci ancora c'erano solo il primo genito e il secondo genito lui sarebbe stato il terzo genito stare nel freddo senza tempi dell'ancora prima ecco qui Dario fa una roba che per me è difficilissima cioè partire da è una cosa che io non saprei insegnare a nessuno perché se tu vai negli scaffali Ikea non c'è neanche con quei nomi strani non c'è lui fa questa cosa cioè partire da una scena molto concreta che può essere una scena cinematografica che un regista può prendere e trasformare con degli attori in qualcosa che mette su e poi a poco a poco ma con una velocità cioè sbobinata a un certo punto la vita la bobina della vita comincia a correre all'indietro con una velocità pazzesca e senza che tu ti accorgi sei in una dimensione filosofica di un altrove dove non c'è più l'essere umano e tutto succede nel giro di una pagina ecco questa è una di quelle cose che io vedo fare a te non so se in maniera pensata in maniera naturale questo non lo so però è una delle cose che vedo fare a te e a pochissimi pochissimi altri cioè partire cioè quello che io insegno ai ragazzi è a lavorare la materia ok c'è un padre c'è un figlio come il padre come il figlio come il tavolo su cui sono appoggiati mentre contano quei soldi quei soldi cosa sono le lire di che anno è tutta roba materia tutto legname che ti procuri devi stare attento sceglierlo bene e poi assemblarla assieme ok e tu questa roba qui non è che non sai farla la fai infatti loro sono lì eccetera e quindi c'è c'è materia però a un certo punto questa materia prende a una velocità che sembra interstellar no e tu quando hai visto interstellar poi alla fine non è che riesci a ricostruire la questione quantistica per cui quello lì sposta i libri essendo entrato in un buco nero però ci credi e io ero una pagina prima ero lì col padre e il figlio che gli spiegava la differenza tra il guadagno e l'incasso e venti righe dopo sono in un altrove dove gli esseri non esistono ecco questa secondo me è un'esperienza che pochissimi riescono a farti fare pochissimi riescono a farti fare in così poco tempo c'è gente che lo fa ma ci mette un libro per farlo non due pagine e con questo tipo di credibilità e questa è una cosa è il motivo per cui i libri di Voltolini per esempio non li uso per insegnare come invece ne uso tanti altri ma dico ai ragazzi a certi ragazzi leggeteli e poi ne parliamo in generale ok quando sei stato lì dentro poi dopo ne parliamo questo secondo me è una cosa preziosissima che c'è in tutti i suoi libri e qui c'è applicata una materia difficilissima che senti che è anche molto dolorosa eppure non c'è nessun dolore che ti ferisce c'è soltanto della commozione tantissime emozioni finisci il libro e sei come dire stato coinvolto coperto da questa coperta che ti mette in testa però mentre ci sono molte storie dolorose a cui che riescono come dire a scalfire la tua corazza ma poi alla fine come dire sei anche un po' risentito verso chi le ha raccontate perché c'è anche come dire quasi ce l'hai un po' con lui invece in questa storia non c'è non c'è niente di tutto questo perché c'è questo modo di scrivere che è proprio accogliente è una festa anche nel racconto di un di una di una sofferenza questo per me è una cosa difficilissima da fare che ho visto fare pochissime volte e Dario la fa molto bene no no niente da aggiungere bene finiamo qua vi ringraziamo credo che i libri siano tutti lì credo che Dario avrà piacere di filmarli di parlarne con voi la domanda me la tengo per la prossima presentazione è qui il trattenimento della suspense beh grazie allora Riccardo grazie a voi grazie a Dario è stato un piacere grazie a Dario grazie a Dario grazie a Dario grazie a Dario